Bentornati a Codemotion Roma, siamo qui con uno dei nostri speaker Orlando Kappa. Ciao Orlando. Ciao, ciao come va? Tutto bene, guarda te lo passo, ti faccio la domanda e te la passo. Innanzitutto è appena finito il talk, come è andato? È andato molto bene, sono molto contento, c'erano un sacco di ragazzi giovani, anche ragazzi un po' più anziani, un po' più maturi delle start up, quindi erano molto interessati, sono stato molto contento. Bene, bene, quindi c'è avuto un ottimo riscontro direi. Un sacco di gente è venuta, dopo mi ha fatto delle domande, mi hanno chiesto se poteva dargli le slide, così poi quando torno all'ufficio si riguardano con i loro, insomma, la gente con cui lavorano. No, sono molto contento, cioè è la prima volta che vengo a parlare in Italia, torno in Italia tra un paio di settimane, vado a Firenze, quindi comunque l'avventura italiana continua. Bene, ci fa davvero piacere. Senti, allora, la prima domanda, innanzitutto tu sei un assiduo frequentatore di Hackathon, quindi qual è il progetto più interessante che hai sviluppato? Allora, mi ricordo che secondo me quello più interessante che ho sviluppato era per gli apicoltori. Abbiamo sviluppato tramite un Arduino un sistema che permetteva agli apicoltori di attaccare queste scatolette vicino a questi alveari fatti dagli apicoltori e, diciamo, monitorare, sì, un po' diciamo, lo status degli alveari, basati sulla temperatura, il ronzio delle api e altri, insomma, parametri, diciamo, che abbiamo scoperto poi ricercando. Tutto questo in 48 ore, quindi eravamo molto felici, abbiamo vinto anche un premio, siamo contentissimi. Bene, molto interessante. Senti, tu provieni da una delle start-up proprio più in vista, più alternative, si direbbe più fighe, via, diciamolo. Siamo uno dei tanti start-up a San Francisco, sì. Diciamo che, cioè, abbiamo avuto molta fortuna, abbiamo lavorato molto sodo per essere dove siamo oggi, però, cioè, tutti possono farcela comunque. Senti, dal tuo punto di vista e dalla realtà in cui vivi giornalmente, un consiglio per le start-up qui di Codemosson, ovviamente italiane? Ok, secondo me una delle cose più importanti che tutte le start-up devono fare è un sacco di networking. Grazie al network, cioè, proprio è la vita o la morte delle start-up. Non so, parlando solo dal punto di vista di farsi del network per, tipo, rivendere il prodotto, ma anche, tipo, dal punto di vista che, cioè, impari molto dalle altre start-up. Quindi, magari un fondatore di un'altra start-up dice, ah, sai, da noi questo ha funzionato molto bene, forse dovresti provarlo. Quindi questo è il mio primo, diciamo, consiglio per le start-up qui di Codemosson, qui in Italia. Non so se posso continuare, posso andare avanti. Un'altra cosa molto importante per le start-up qui in Italia è che, cioè, non devono mollare, giusto? Cioè, non bisogna mai mollare. Magari qui in Italia dicono, eh, siamo un po' indietro, a confronto, però ci siamo in Europa, cioè, c'è possibilità di muoversi, iniziare qui, andare magari in Germania, andare in Inghilterra, poi tornare. Cioè, siamo in Europa, abbiamo la fortuna che le frontiere sono aperte, c'è un sacco di possibilità, anche fuori, diciamo, dal proprio centro, piccolo abitato, giusto? Quindi, non aver paura di andare un po' all'estero, un sacco di networking, e, oh, non mollate, non continuate così. Bene, bene, direi sicuramente ottimi consigli. Senti, quanto ti fermi prima di tornare in America? Ok, io riparto domani verso le tre, quindi, diciamo, è una cosa molto veloce, sono stato molto felice di essere stato scelto per venire qui a parlare un po' dell'API, che, insomma, un po' di tutto, generalmente, dell'API. Grazie, grazie di tutto. Grazie a te, quindi, l'edizione di quest'anno di CodeMotion ti è piaciuta, a me è parte di capire. Sì, è stata la mia prima volta qui a CodeMotion, e sono positivamente molto ben impresso, e quindi, spero di tornare poi in un futuro. Perfetto, e noi ti aspettiamo. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.